Io mi chiamo Hajar e vengo dal Marrocco oggi o oggi, cercando di immagini per parlarvi del gradiente di profondità. In questa immagine vicino ci sono colori caldi e lontano ci sono colori freddi. In questa immagine viviamo i giardini di Mnara. Io mi chiamo Moued e vengo dal Marrocco oggi anche io, cercando di immagini per mostrarvi la mia città. In questa immagine vediamo dei casi, ci sono più grandi e lontano sono più piccoli. Grazie. 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 Grazie.